buongiorno a tutti e bentrovati nel canale arti allegra quest'oggi con un nuovo video della playlist dillo con i fiori oggi in questo video impareremo a bagnare la spugna per poterla utilizzare con i fiori e le foglie recise la prima cosa che dobbiamo sapere è che per una composizione floreale che duri la spugna è quella più importante ce ne sono in giro tante questa è quella che utilizzo in genere io per le mie composizioni chiamata a mattonella la prima cosa da fare è quella di metterla in un contenitore capiente con l'acqua senza pressarla e lasciare che questa si bagni totalmente toccando il fondo mi raccomando di non schiacciarla perché altrimenti si bagnerà solo superficialmente e non al proprio interno vi consiglio sempre di bagnare la spugna che dovete utilizzare evitando di conservarla una volta ben bagnata fate sgocciolare l'acqua in eccesso e le vostre spugne sono pronte per essere utilizzate per le vostre composizioni nel prossimo video vedremo come io ho utilizzato queste spugne come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale a commentare e a condividere i miei video con i vostri amici se avete domande contattatemi su facebook non mi resta che salutare e soprattutto dillo con i fiori ciao e una buona giornata a tutti a